Eccoci qua, i primi giorni del 2024 e i buoni propositi per ripartire con slancio e con il nuovo corso di educazione finanziaria proposto in collaborazione con l'Università Popolare di Cremona in settimana da Motobadano e con la docenza di Giusy Biondelli, vero Giusy? Certo, ci rivediamo a marzo con il corso di educazione finanziaria che è aperto a tutti, a coloro che hanno un lavoro e a coloro che non ce l'hanno a tutti coloro che vogliono incrementare la propria capacità di decisione in materia finanziaria ed economica Quindi in ambito della famiglia e anche dell'impresa Giusy? Certamente, è aperto anche a piccoli imprenditori, è aperto a coloro che lavorano in azienda ma che vogliono incrementare la capacità di comprensione delle tematiche finanziarie ed è qualcosa che non ha a che fare solo con la nostra cultura personale ma anche ha una ricaduta nella concreta gestione quotidiana delle proprie decisioni di investimento ma anche di indebitamento Il programma completo lo trovate nel link che trovate qui in calcio questo video La Presidente Alessandra Cappelli sarà lieta di darvi tutte le informazioni, il numero di telefono per l'iscrizione è qui e quindi buon corso di educazione finanziaria, vero Giusy? Ci vediamo a marzo! A presto!